E ragazzi il nuovo episodio di Minecraft Forever con Xander Siamo tornati anche oggi Buongiorno, ma che è successo qua in questa montagna? Tempeste Luca, tempeste Tempeste Vai Xa, che facciamo oggi? Oggi non siamo in live perché c'è un evento Ma domani torneremo in live tutti i giorni alle 13 Con questa serie, la registriamo in live su Twitch Link in descrizione A voglia Oggi siamo belli tranquilli e vogliamo farmare di brutto Cioè fare qualcosa di consistente Eh sì, perché più che altro ci serve energia per far partire questa farm Che abbiamo fatto nello scorso video che in teoria È molto utile per fare tantissimo ferro Che ci serve tanto, tanto, tanto Infatti ne è uscito parecchio, guarda quanto Vabbè 53 È pure Power The Red 18 Bono, bono Allora adesso l'importante oggi Ragazzi Xander è venuta una brillante idea Una bella mega super farm Eh per forza regà, dobbiamo fare legno Il legno ci fa carbonella, carbonella fa energia Oddio, mega farm non tanto Adesso spieghiamo anche il perché Vai Perché praticamente l'unico macchinario che sembra possa fare questa cosa È il stone chopper O comunque un chopper della Progressive E per potenziarle ci vogliono un sacco di materiali Allora lo stone planter giusto? Eh no, il chopper Facciamo il chopper? Il planter è per le piantine normali Tipo il grano Ah ok Il riso Il chopper Il chopper è per gli alberi Stone chopper Più bisogna fare quello normale Quanti ne faccio uno? Uno sì Al centro e poi tagliare a tutti gli alberi lui Allora te lo faccio io Baby Te lo faccio io Mi raccomando Ricordati di iscriverti al canale E soprattutto Di attivare la campanella Per rimanere aggiornato Sulle nuove pubblicazioni Non mi rimane che augurarti buona visione Allora io preparo la stone E quello dopo eh Fantastico Una legna Una fornaccia Una fornaccia Una cosa di questa Poi faccio Questo qua Guarda se sono bravo Madonna mia Che crafter Guarda Riesco a fare Un'ascia di legno Mamma mia Ma come fai Come fai Eh guarda Io non saprei farlo Ti giuro Allora abbiamo della cobblestone Si te la sto portando Tieni Ok ce l'ho Sicuro che uno basta Anche Poi lo potenziamo Eh certo che lo potenziamo Ma sai che ci conviene Più fare Più di questi Che fare i potenziamenti Tra un po' Eh Forse Non lo so È da vedere Perché effettivamente Effettivamente Ti ho messo una pulce In un'orecchia Effettivamente costano un po' Tantini i potenziamenti Strano eh Strano Magari c'è un motivo Magari un potenziamento Da più di un blocco Strano comunque Vediamo un attimo Facciamo Allora intanto faccio Strano strano in effetti La cobblestone Ti serve? Si Ah no Hai già fatto qua A posto A posto Boom Eccolo Fatto Primo Vai Allora lo portiamo a zona alberi Si aspetta che prendo la Dirt Ce l'abbiamo È entrato un ragno È entrato un ragno È calda Strano eh Ma che non ci servono Entrano in ragno Ma c'è la dirt No non c'è Allora io lo pianto per terra E Xander ci spiega Anche se Più o meno è semplice Dai si basta che apri l'interfaccia Luca ragazzi Qua ci va il carburante Qua ci va lo scavatore Che sarebbe la ascia Magari di diamante Se possiamo Ci posso mettere anche questa Se voglio Ah non è vero Non mi fa mettere l'ascia di diamante Perché dice che l'attrezzo È troppo potente Ah forse mancano i potenziamenti Infatti No mi sa che vuole L'ascia di pietra Perché il macchinario è di pietra Ma questa però è una rottura di scatola Eh quindi Effetti Ah forse perché Non vuole far diventare il macchinario Troppo potente Dice se vuoi l'ascia di diamante Devi farlo in diamante Può dare Ah ok vuole il macchinario potente Si Perché possiamo No non puoi Come no Poi c'è quello di ferro Poi c'è quello di diamante Ma facciamolo di ferro a sto punto Ah è vero Ce l'abbiamo il ferro Ragazzi questa mod Io non la conoscevo La progressive automation Ma è figa Molto semplice Carina Si si Allora facciamolo in ferro Dai aspetta Vado a prenderti il ferro Mi serve 9 più 6 Ah guarda forse Ce ne manca solo uno Porca paletta Ce ne abbiamo 13 13 porta sfiga Guarda ce ne manca Ce ne manca 2 Non ci credo Aspetta ma ce ne abbiamo Si le da cuocere però Ce ne mancano 5 5 Devi fare anche l'ascia Arrivo arrivo Ce l'ho ce l'ho Ok Non è vero ce ne ho Ce ne ho 4 Ce ne sono 4 No Eh cuociamoli Aspetta si cuocilo è meglio Guarda Lo devo distruggere o li cuocio così direttamente Vaffanculo Ma si cuocene 2 così Ma per 2 dai Sta a far pulciaro Sono 8 pezzi giusto Bam Si sono 8 pezzi 2 Li buttano la fornaccia E' vero perchè ci va a fare anche l'ascia di ferro Eh E' la lascia di ferro che serviva Porcaccia È vero Brood e Moltengold Oh qua ci sono 3 lingotti d'oro Tanto Me li faccio Sono qua a aspettare No Che pirla Portalo Portami il ferro Portalo qui Ho fatto la piastra Ho fatto Ah bravo Non la posso risciogliere Non la posso risciogliere Eh Si come no Non puoi No Porcaccia Porta qui il ferro Eh il ferro come te lo prendo Non c'ho i cosi di lingotti Mettili a 4 E mettili in una fornace normale Lo messi qua dentro ormai Ah E non c'abbiamo lo stampino per là dentro C'abbiamo Eh facciamolo Prendi un lingotto a caso Prendi un lingotto a caso Arrivo Uno Qualsiasi del cacco Eccolo Arrivo Arrivo Ah ho finito il cibo Il problema è che io ho consumato l'oro Tutto l'oro è finito Ma è rimasto un lingotto Basta Eh mi sa che ne servono due Prova Ne servono due No vabbè ma che È colpa mia Fail 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 Vabbè Si taglieranno i fail No no io li lascio Il problema è che Non mi ero accorto che mancava lo stampino Sono un pirletta Pirletta lui Sono un pirletta sono Allora ora è il tempo che si cuoce l'oro 8 giorni Ci siamo No no L'oro è molto veloce Dai concediglielo questo almeno Dai ci ha messo poco Guarda E poi ho fatto anche una cagata Che? Eh ho consumato 8 pezzi di cose di ferro Per fare due lingotti E non vengono più di due lingotti? Ah due ne vengono Ah allora è giusto Va bene Giusto Luca è giusto Ne mancano altri? No Guarda devi fare così Guarda vieni qui Vieni apri l'interfaccia Clicca sull'oro Ah si no lo so Porto giù Vai No questo lo so Quanti ne mancano di ferri? Eh niente Due bastano Vai metti lo stampino Bam Ok Verso il ferro Versi tu Verso io A me l'onore E' vero Va messo sotto Mamma mia che Cooperations ragazzi Sì ma mi vuoi dire Quanto ferro manca? Questo basta A posto Due? Sì Oh che figata Hai visto? Hai visto che si fredda? Come cambia colore piano? Bello Questa è nuova È nuova Dai senza acqua Non posso correre Mamma mia Lo sai stavo quasi pensando Di fare le cotture Tutti i minerali Con la tinker Di chi? Stavo pensando eh Stavo quasi pensando Arriva il ferro Arriva 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 Vai Vai Ce l'abbiamo Ah fanciulo Ah fai un'altra Lascia di ferro Allora stavo a posto Non ce l'hanno pensato A sta cosa È vero perché ce la consuma Aspetta Dove è il ferro? Almeno che iniziamo a fare Quella di pietra Poi la cambiamo Anche sì Ok vedi No più che altro La cosa che mi interessa a me Lo sai qual era Perché non volevo fare Quello in ferro Perché adesso dobbiamo fare Gli upgrade In ferro Ah Ah Dici? Eh sì eh Eh sì perché sono Gli iron upgrade Eh sì eh Guarda io intanto ci metto Un sapling Che va Dove va il sapling? Eccoli qua Ah e c'hai ragione sì E metto C'hai ragione Voglio dire una cosa Ah e volendo posso farti L'altra delle stone E questo la mettiamo da parte Ok vuole Vuole lascia Aspetta vado a prendere Lascia Ehm Perché effettivamente La stone potrebbe essere Più facile da fare Per noi piuttosto che Adesso sì All'inizio Cerro Perché una volta Che abbiamo la carbonella Sarà tutto in discesa Sarà tutta una minchiata Sai Mamma mia Allora Finita è già finita Te ne faccio un altro Di stone? Se vuoi sì E quello lo mettiamo da parte Altrimenti Altrimenti proviamo con questo Voglio prima metterci Un'accetta e vedere se parte Sono curioso Ce la mettiamo Vediamo che fa Io intanto posso fare così Intanto Intanto io sto Sto avendo le vampate di colore E ora muoio Eccola Vedo Vedo giallo Vedo fucsia Dimmi quando sei pronto Ok ho messo l'accetta Guarda Vieni a vedere Vedi ha piantato Un albero Basta Perché ragazzi Vedete range 1 Ora ogni upgrade Che noi facciamo Aumenta di 1 Dovrebbe aumentare di 1 Non so se lui ha modificato qualcosa E aumenta di 2 o di 3 Però aumenta di 1 E gli upgrade sono questi Esatto Eh siamo un botto di re Guarda aspetta Proviamo col bombille Vediamo se funziona l'attrezzo Ok cresce l'albero Adesso dovrebbe tagliarlo Sta tagliando Ma è lento Eh non è lento È che è fritto il carburante Quanto ciuccia Tanto ciuccia Ok è ripartito Ecco guarda il legno Guarda il legno che arriva Ah figata però eh Bello si I saponi li ributta da solo dentro Guarda E quando arriva pieno Che fa? Quando arriva pieno Li mette nell'inventario Li puoi estrarre col tubo Ah ok E nel frattempo brucio Brucio L'unica cosa Che non crescono da soli C'è qualcosa Brucio Sì che crescono da soli Con il vanile C'è Capito come? No si Dico intendo re Veloci Come possiamo fare? Ah no non crescono veloci Infatti tu più stapling metti Più alberi escono E più legno fai Capito quindi Spammare upgrade come un pazzo E non c'è di quella mod Un macchinario che Eh non lo so Non credo No Comunque ha funzionato Sì comunque va L'importante è mettere gli upgrade adesso Ora però gli upgrade Siamo pirli Avendo fatto il coso di ferro Gli upgrade vanno fatti di ferro Io andrei a farne uno di stone Ma anche di legno Vabbè di legno no 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 di stone va bene Ce l'abbiamo tanta di stone Ah di stone Quale problema c'è? Prendo una di qua Fornaci Non abbiamo Una chest Sì Mi serve la cobblestone Vabbè questo può pure Può pure tagliare anche questo Se vuoi Oddio Non abbiamo cobblestone È un parolone Eccolo Eccolo Ma la raga Quando Luca prende il via Non smette mai di reccare Eccomi Lui è tutto minecraft Sì sì Io lo recco tutto Perché alle genti piace Vedere le recature Ragazzi a voi piacciono Tanti tagli Io ho pochi tagli Allora Mi serve Da Per uno Ah no riesco Poi mi serve la stone Che è qua Nel frattempo raccolgo legna E poi dovrebbe essere Così Bambete Bam Ok Oh e dagli E dagli Romano burino Sto prendendo danni Però te l'ho fatto Sei proprio un burino sei Te l'appoggio lì E vado un attimo a morire Vado un attimo a morire Arrivo subito Muoio un attimo Muoio sempre Ciao Ok addio È stato un piacere Voglio morire qua Io scelgo di morire ogni volta Bella questa cosa Beh poter scegliere dove morire Dove morire un passo avanti Bello 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 Ti invidio in qualche modo Io crepo sempre senza volerlo Fai te Che parte la musichetta Allora Pam Via questo Io ci sono vai Ma che è l'harvest craft Li suono a carico Ah sei carico Ok Io ho piantato quel coso Ci ho messo l'accetta Dobbiamo fare gli apogreti adesso Adesso io li faccio Sei pronto Fammi mettere un attimo in sesto Qua e sono pronto da lei Guarda che c'ho qui per te Guarda Guarda qui Mi mangio uno di questi Ci sono Guardalo Guardalo Eccomi Vai Dove hai cesto Perché? No non cesto Non prendere la cesta Devi mettere al centro La redstone Ah ok Per fargli upgrade Vai Vai con dio Bam Me ne vengono cinque Bam Adesso rimetti al centro E dobbiamo fargli di stone No c'è un legno grezzo Eh infatti stavo dicendo Non va bene La stone Ne ho solo così No 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 Devi mettere quelli che ti hai prenotato adesso Gli upgrade Non la redstone Upgrade Bravo Eh Ah vuole la stone Cotta Top Ce l'ho Ah ce l'hai mettila Però me ne vengono solo due Eh cuocere Eh cuocere ragazzi Cuocere 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 No messo in cottura 26 8,16,24 E li facciamo tutti Ah vogliamo mettere gli upgrade E vedere quanto dà Intanto Vai andiamo No più che altro Come si espande Ah è vero In teoria dovrebbe espandersi a spirale Quindi io muoio Allora io metto gli upgrade Oh ce li hai ciucciati Cinque di range Quanti ne hai messi? Cinque Ah hai messo cinque upgrade dentro? No due ne ho messi Ah e quindi ho aumentato i due ogni upgrade Hai visto sì Hai visto sì ne sai Ma è due ogni upgrade È due ogni upgrade Qua non mi dice nulla vedi Non te lo dice no Però è due ogni upgrade Quanto abbiamo visto Vabbè questo è interessante Guarda ho messo gli alberi Ok a spirale come dici tu Tutto intorno ogni volta Vai vai Allora continuiamo a mettere dirt Continuiamo a mettere upgrade Allora siamo a cavallo A due a due Magari quello di ferro fa 3 a 3 Che ne sappiamo? Può darsi O 4 a 4 Non puoi saperlo Lo vedremo solo quando lo faremo Si potrebbe provare a fare un upgrade di ferro Tanto buttare non lo buttiamo Ah non lo puoi mettere dentro però Perché? Lo devi mettere dentro quello in ferro Eh mettiamo solo per vedere quanto Ok Perché se conviene Guarda che conviene in ferro Non in stonco Eh beh direi eh Però non abbiamo ferro da cotto Allora io un martello ce l'ho Aspetta 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 Vai piazza ce l'ho Che io sono molto intelligente Guarda qua Ah fai il pillar Ah no Pensavo facessi il pillar Come ho fatto con la sabbia l'altro giorno No eh Allora Dammi Godi dei Sono tutti per te Eh però Eh però eh Con queste mani E che sei dislessico Non si fa mica così eh E che si fa così Dislessia manuale di luge Incredibile Ok Tieni Mi faccio vedere anche un po' di farming Quello che in realtà Quanto ne è uscito? 50 Ma aspetta Quindi quanti blocchi? 12 12 Ok Li butto qua? Ma qua Non raddoppiava una volta sta roba? Eh una volta si Ma quanto pare non più Cioè non raddoppia più No E allora è più veloce Nelle altre fornaci normali Eh sì È più veloce sicuramente Però qui almeno Non consumiamo legno Che non ne abbiamo Utilizziamo questa lava Che insomma E tu questi tre Butto in un'altra parte Insomma Oh dove sono? Miei vado Il tempo che cuoce ci siamo Dai fa sto cosa in ferro Sto cosa in ferro Oh No Oh se ne serve Verticale Togli quello sopra e quello sotto Ah ok E ragazzi ce l'abbiamo Voglio vedere quanto aumenta Vediamo Vediamo un po' Lo metto eh Vai Una domanda Una domanda Ma se io questo ora Lo rompo E lo ripiazzo Abbiamo perso l'upgrade No no Ti li butto di per terra Ah ok Vado eh Vai No metto sempre di due Una cagata Cagata Ok allora li metto qua Cosa aumenta? La velocità? Non aumentano neanche le slot Niente No niente La velocità aumenta L'unico Eh non credo lo sai A che cazzo serve La velocità è in base All'ascia Ah appunto Appunto E la prende? Vedi guarda Guarda Ci ho messo una mia E questa non la prende di qua? No perché è troppo alto il livello Ah ok Ci vuole per forzare una stun Vabbè ragazzi Comunque abbiamo fatto una prova Ora questo qua Lasciamo qua per adesso Abbiamo la prima farm Di alberi Mamma mia Mamma mia Ora il problema è Siccome lui pianta Intorno Sì Dove facciamo uscire i tubi sotto? I tubi li può fare uscire da sotto O da sopra Ma da sotto sì Effettivamente sarebbe la cosa migliore Io inizierei in questo episodio Che sa Eh Perché no? Una cesta di lato Vai Oh Sono sotto Sono sotto Ciao Anche sono sotto Vai allora Vaffan tubo Dai Vaffan tubo Oh ho detto vaffan tubo Ah ok Pensavo mi venisse andata a fanculo Scusa Non abbiamo Non sono avanzati i tubi l'altra volta? Eh me lo so di no Allora però aspetta eh Mi sei molto calmo con me Io Chi si muove guarda? Item duct Eh item duct Quale devo fare? Lead tin Tieni te li faccio io Vai primo e secondi Tieni qua I terzi I quarti I tredicesimi Mi serve un pezzo di tin Tieni Vai Ma io mi sto guardando qua L'impulsive Tieni Piedi pure il servo Perché non mi escono gli item ducti normali? Prendi il servo Bah 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 Non si chiamano item duct allora Bah Come si chiamano? Si chiamano item duct Item duct Oh te lo giuro Ho scritto mi escono solo quelli Ah Cavolo Vai dai Mi hai chiuso dentro Sono i secondi Vai Tira sto tubo Allora Vengo di là eh Si si vieni qua eh Vengo di là Vieni qua eh Ok Ah dobbiamo mettere il servo Aspetta Vai quanti tubi ancora ci vanno Vai aggiungi Aggiungi Più lontano possibile Bello Eh mettilo qui allora Perlo qui eh Dove sei? Sto arrivando un attimo eh Ah hai messo il servo Ah già l'hai messo eh Eh Lo metto all'insù Tecrologica Per forza Per forza Chi è? Oh Ah in teoria sto cosa adesso dovrebbe fare legna Però fra 6500 anni A meno che non ci buttiamo Il bomb meal Eh sono molto lenti a crescere E quello è più vero Problema risolto Spammo bomb meal Chi è? E' un altro? Eh mi sono bloccato però E adesso crescono Eh però non esce Ma sta facciando Dice che sta cioppando Guarda adesso qua Xander io qua farei un piccolo impiantino Quando vuoi con calma poi Sì? Nel prossimo episodio Fornacetta Fornacetta Carbonella diretta E il carbonella che va direttamente qua Esatto Bel Bello Esatto Non qua L'estetica di Luca Il qualco che l'hai messo? Eh che me frega Non ci serve peraltro? Per cosa? Energia Eh che è pappa Energia Se lo metto qui O lo metto da un'altra parte Sempre energia eh Va bene Va bene Sta funzionando ragazzi Abbiamo il primo impianto di legno Sette legno Guarda legna Ora ovviamente off camera O in live su twitch Potenzieremo tutta questa roba E spammeremo Eh sì Aspetteremo che uscirà il legno Qua ci faremo la carbonella Lo mettiamo a accendere i cosi Facciamo il ferro con i cosi E la cobblestone E capito eccetera eccetera E poi è casino Su casino Esatto E poi faremo crashare i server di game hosting Perché ricordiamo che sempre Ce li offrono loro Faremo la sfida Quanto può reggere un server di game hosting? Due domande Possiamo esplodere Top 10 impianti Facciamo il top anche noi E dunque Siamo giunti alla fine anche di questo episodio Xander vuoi fare qualcos'altro? Ma sinceramente L'unica cosa che dobbiamo fare adesso È aspettare E farmare sempre la stessa cosa Quindi possiamo anche farlo in live Sì infatti Dobbiamo aspettare ragazzi Legno Legno e legno Per cui Non riusciamo a stare qua A guardare un albero Che si scongela qua Dai Diamogli qualche oretta Tra qualche oretta Magari avrà farmato un po' Fra qualche oretta ragazzi Noi torneremo on Con un nuovo video Vi ricordiamo domani in live Alle 13 Tutti i giorni Su twitch Link in descrizione E c'è anche il canale di Xander Ciao Bella raga Ciao